Questa unità didattica è dedicata all'implementazione in prologue della ricerca GRIDI, la ricerca golosa, che fa uso, come sappiamo, dalla teoria della euristica. Quindi per prima cosa dobbiamo andare a introdurre questa conoscenza euristica nella descrizione del nostro spazio degli stati e quindi nel nostro caso prendiamo semplicemente la distanza linea d'aria, come ho visto nella teoria, che è una ricerca al contempo, è una euristica al contempo ammissibile e consistente, cosa che sarà importante quando parleremo dell'algoritmo A, che diventerà STAR, ma intanto parlando della GRIDI SEARCHi, semplicemente introduciamo questa euristica che è sostanzialmente rappresentata in prologue mediante un database, H, che sta per euristica, dove ad ogni città è associata la distanza linea d'aria che la separa dalla destinazione che è Bucharest. Ovviamente nel caso di Bucharest questa distanza linea d'aria sarà zero. Per l'implementazione possiamo prendere a base l'algoritmo che abbiamo già visto per la Uniform Cost Search. Infatti laddove la Uniform Cost Search ordina i nodi sulla frontiera in base al costo del raggiungimento del nodo stesso a partire dal nodo di partenza, la ricerca GRIDI invece ordina i nodi sulla frontiera in base al valore dell'euristica. Quindi quello che noi possiamo fare è semplicemente potremmo andare a considerare lo stesso impianto che abbiamo visto per l'uniform Cost Search e quindi sostanzialmente andremo a espandere, come avevamo già fatto anche nella Bread for Search, andiamo a considerare non tanto la lista dei nodi frontiera ma la lista dei percorsi frontiera, ordinata però questa volta rispetto alle euristiche, non rispetto al costo dell'ultimo nodo. Quindi strutturalmente potremmo semplicemente mantenere un termine composto di due parti. La prima parte, il confuttore principale per esempio trattino, la prima parte essendo il costo, nel questo caso adesso sarà l'euristica, e nell'altro il percorso. Però siccome poi siamo anche interessati a avere anche il costo del percorso e quindi non solo l'euristica, forse possiamo fare come sto facendo adesso io, mettere un altro ancora elemento all'interno di questa struttura che appunto sarà destinato a questo elemento a contenere il valore della euristica e quindi sostanzialmente potremo fare una cosa di questo genere. Mettiamo, vediamo un po' se riesco, facciamo un altro operatore più, ci aggiungiamo il valore H che sarà la nostra euristica e diremo che questo termine composto da l'euristica, il costo e il percorso, ha un costo C, dalla somma dei costi degli archi, sì, e poi possiamo specificare che l'euristica H, l'euristica dei nodi frontiera è H. quindi a questo punto noi che cosa possiamo fare? Possiamo innanzitutto dire che questo sarà appunto lanciato con un valore dell'euristica che dovrà essere diverso da zero, quindi per esempio, non so, un'euristica 999, che in un momento siamo come un'euristica più grande di qualunque altro nodo nel percorso che vedremo sarà significativo, però andiamo appunto a fare la nostra modifica. Ora, ragioniamo un attimo il termine della nostra ricursione. Il termine della nostra ricursione sarà quando arriviamo a destinazione e qual è il valore dell'euristica della destinazione? Il valore dell'euristica della destinazione è zero e quindi noi potremmo anche ottimizzare il tappo della ricursione semplicemente andando a specificare appunto che il valore dell'euristica è zero. Se siamo arrivati all'euristica zero abbiamo trovato il percorso. A questo punto il percorso lo possiamo restituire e sarà, a questo punto ci interesserà, mettiamoci anche qui l'euristica, che non ci interesserà anche se sarà zero, ma a questo punto non ci interessa. Quello che è importante è che andremo a prendere il percorso, lo invertiremo, come abbiamo già fatto nell'uniform cost search e poi lo restituiremo con anche il costo che sarà interessante per vedere appunto come andrà a cercare, andrà a individuare i percorsi, la uniform cost search. Ok, andiamo adesso alla clausola ricorsiva e quindi operiamo la modifica che abbiamo ipotizzato e quindi aggiungiamo qui la struttura, il termine H è relativo all'euristica all'interno della struttura che sarà inserita nei nostri percorsi e poi dovremo andare a fare un'espansione specifica per espandere il... però l'espansione questa volta la dovremo fare in base al concetto diversi, perché dovremo andare a fare sì un'espansione ordinata, ma ordinata non in base al costo, ma bensì in base al valore della euristica e quindi dobbiamo ovviamente trasferire anche l'euristica. Quindi andiamo a vedere questa nuova espansione, come la possiamo implementare. Questa nuova espansione, indipendentemente dal valore dell'euristica che gli passiamo, dovrà andare a fare, andare a lanciare un goal in cui si va a cercare sicuramente il successore del nodo corrente. Andremo anche a verificare che non è parte del percorso parziale che si sta espandendo. Poi ecco dovremo andare a individuare il valore dell'euristica di questo nodo successore. chiamiamolo HH. Andremo anche a calcolare il costo di questo percorso, perché poi, ripeto, ci sarà interessante. e poi andiamo ad aggiungere anche la componente appunto dell'euristica all'interno del primo termine del set off, in maniera tale che, avendola poi messa qui al primo posto, il set off ordinarà proprio in base al valore di questo euristica. In pratica il set off ci ordina i nuovi percorsi espansi in ordine crescente di euristica. Ok. Abbiamo cambiato il predicato di espansione, quindi dobbiamo cambiare anche il tappo. aggiungiamo anche questa clausola che serve per non far fallire espansione 2 nel caso in cui il set off non trovi espansioni. Come sappiamo abbiamo detto l'altra volta che il set off in questo caso fallirebbe e non è che restituirebbe la lista vuota come faceva il find all. e a questo punto possiamo anche procedere con la funzione ordinata, però semplicemente ci dobbiamo ricordare che questa volta la funzione ordinata la dobbiamo fare, l'ordinamento lo dobbiamo fare in base alla funzione euristica. quindi innanzitutto dobbiamo introdurre la funzione euristica all'interno della struttura quindi andremo a introdurre H1 e anche H2 e verrà restituito H1 cioè verrà preso H1 se, ecco, non se C1 è maggiore di C2 ma se H1 è minore di H2 in questo caso ricorreremo sulla coda del primo percorso con invece tutto il secondo percorso viceversa se abbiamo che se abbiamo che se abbiamo che H1 è maggiore di H2 allora ricorriamo con la coda della seconda lista quindi adesso salviamo le nostre modifiche e compiliamo e magari potremo anche fare un controllo dopo l'espansione ciò inseriamo per andare effettivamente a a vedere il percorso che viene di volta a volta espanso con la coda con la coda compiliamo quindi adesso possiamo modifichiamo chiamiamo greedy search ovviamente questo non è più un uniform cost search ma se non abbiamo commesso errori questa sarà una greedy search e greedy search salviamo compiliamo e a questo punto se non abbiamo commesso errori quindi quello che dovrebbe quello che dovrebbe adesso succedere è che dovremmo lanciare l'algoritmo cerca percorso il terrore comunque vabbè cosa è successo andiamo a vedere non è non è non è non è beh la chiamata ricorsica mi sono scordato di cambiare il nome salviamo compiliamo e a questo punto rilanciamo il goal di questo algoritmo di questo algoritmo comincia a espandere da Arad a Vassibiu e perché era quello ovviamente che aveva la distanza di andare più vicina a Bucharest dopodichè espande anche Fagaras e dopo Fagaras effettivamente arriva a Bucharest quindi il primo percorso trovato è questo qui vediamo i successivi ecco poi trovo il percorso più breve quello lungo 418 chilometri ed è il secondo il terzo il quarto il quinto il sesto il sette il bravo il quinto finiti ecco così possiamo l'algoritmo grid research ci servirà a sua volta come base per implementare l'algoritmo a star a star a 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